per aggirare la censura che sta oscurando i canali social e i video di informal tv e per non perderti i nostri video vai sul sito www.informaltv.it scorrendo la pagina sulla destra trovi il modulo per iscriverti alla newsletter inserisci il tuo nome ed il tuo indirizzo email quindi clicca sul tasto subscribe in questo modo riceverai le notifiche dei nuovi video direttamente da informal tv cari amici noi italiani siamo carcerati con tanto di museruola eppure udite udite il 3 di giugno l'italia riaprirà le frontiere con l'unione europea e questo significa ingresso libero a tutti i cittadini dell'unione europea e per di più senza quarantena senza quarantena avete capito bene e allora tutto questo è solo un grande inganno per terrorizzare le persone perché se il virus fosse così pericoloso come continuano a sostenere beh allora altro che aprire le frontiere e proprio nel caso in cui ci dovessero riaprire ovviamente oltre a tutti i controlli del caso tamponi e quant'altro beh allora la quarantena dovrebbe essere obbligatoria per tutti e siccome invece questi a noi catene museruola ma quelli che vengono dall'estero possono entrare tranquillamente è evidente che qui qualcuno ci sta prendendo in giro invece le misure ristrettive le minacce ed il terrorismo psicologico vengono dispensati a piene mani dal governo ma anche dagli amministratori regionali locali sindaci insomma a tutti i livelli e fanno questo sulla spinta dei sapienti consigli dei sedicenti esperti no virologi tutti i dottori che vanno in televisione poi il ministero della sanità l'istituto superiore di sanità l'organizzazione mondiale della sanità tutta gente che ha in questo periodo ampiamente dimostrato la totale in preparazione inadeguatezza e questo per non parlare ovviamente dei conflitti di interesse il governo i governatori e i sindaci hanno abusato oltre modo del loro potere ma insomma abbiamo assistito a delle scene apocalittiche delle persone che correvano per tenersi allenate inseguite dai droni orde di poliziotti con tanto di elicotteri a braccare un povero cristo che magari faceva due passi col cane sulla spiaggia l'elicottero che invocava anche l'intervento della pattuglia navale mancava solo che si mettessero pure a bombardare qualche cittadino con la flotta navale e poi veramente avevano fatto tutto più di così non si poteva veramente nemmeno immaginare mai e poi mai abbiamo assistito ad un tale dispiegamento di forze ad un tale accanimenta un tale impegno per contrastare la criminalità la mafia e quant'altro e non solo perché il terrorismo psicologico operato dai media e dalle televisioni soprattutto martellante ha confuso le persone le ha istigate e le ha anche incattivite e quindi oltre a fioccare le denunce abbiamo assistito anche purtroppo a delle vere e proprie scene di odio nei confronti di chi era sospettato di non rispettare le regole nei due mesi di lockdown gli italiani sono stati privati di ogni minima libertà personale in totale spregio della costituzione ma soprattutto anche del buonsenso che avrebbe invece suggerito di cercare di limitare il contagio di magari di circoscriverlo ma non certo di imporre un folle violento e cattivo coprifuoco nazionale degno della peggior dittatura immaginabile la parte più fragile della popolazione condizionata dal martellamento mediatico è stata ridotta in condizioni di psicofobia al punto da degenerare in aggressioni a mamme che portavano sul lungomare il figlio autistico o a pestaggi al vicino di casa che usciva per sgranchirsi le gambe intorno all'isolato chi si augurava che tutta questa follia questo stato di dittatura questa repressione anticostituzionale potesse finalmente finire con la fase 2 direi che è servito la dittatura si è fatta ancora più stringente e chi ha il potere nelle mani evidentemente ormai ha preso gusto ad abusarne e così siamo passati allo squadrismo delle mascherine che per esempio in campagna De Luca ha reso obbligatorie anche all'aria aperta con il risultato non soltanto che le persone obbediscono fedelmente indossano le mascherine fedelmente ma non contente insultano ed arrivano ad aggredire chi invece magari per la strada giustamente la mascherina non la indossa De Luca aveva iniziato il suo show del terrore arrivando addirittura a parlare di utilizzo dei lanciafiamme contro la popolazione disubbediente insomma contro i cittadini disubbedienti monito che però poi in sostanza si è tradotto in un accanimento spietato nei confronti degli italiani e in un via libera per spacciatori e stranieri insomma un po come dire campani in prigione e tutti gli altri liberi ma il guaio è che De Luca invece che tornare indietro sui suoi suoi passi oggi cosa fa rincara la dose perché evidentemente ormai si è perfettamente immedesimato nello sceriffo De Noantri chi non indossa la mascherina è una bestia noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi l'imbecille normale non porta la mascherina e poi c'è l'imbecille doppio quello che la porta appesa al collo ed è imbecille due volte quindi non solo mascherine obbligatorie per tutti anche all'aria aperta ma soprattutto la repressione punirne uno per educarne 100 e quindi pesantissime sanzioni per i trasgressori che si permettono di non indossare la mascherina all'aria aperta e così ricominciamo ad assistere ad altre scene raccapriccianti come quello che è successo sul lungomare di salerno dove una signora che stava senza mascherina è stata braccata accerchiata rincorsa sembrava una caccia all'uomo da un cumulo di agenti della municipale che appunto volevano catturarla assetati di sanzioni perché questa signora non indossava la mascherina all'aria aperta ma come si può imporre l'utilizzo delle mascherine a tutti i cittadini se le mascherine sono introvabili e c'è tanta gente che non ha il denaro neanche per comprarsi un pezzo di pane come può un governatore di una regione come la campania dove vivono sei milioni di persone e c'è il più alto tasso di disagio sociale povertà ed emarginazione continuare a strumentalizzare la paura della gente per mera speculazione politica anziché sostenere il rilancio dell'economia nell'interesse dei suoi cittadini che poi parliamoci chiaro in campagna come nel resto del sud e anche in altre regioni una vera e propria emergenza non c'è mai stata e questo senza contare che la mascherina all'aria aperta se io mantengo le distanze di sicurezza non serve assolutamente a nulla e al contrario utilizzare la mascherina all'aria aperta può invece non fare esattamente bene perché il governo anziché annullare l'ordinanza della regione calabria che già da un mese aveva zerato i casi e si era permessa di consentire l'apertura dei locali con i tavolini all'aperto non si impegna per ripristinare le basilari libertà civili in campagna dove la dittatura di de luca ha imposto lo squadrismo delle mascherine la mascherina all'aperto se mantengo la distanza di sicurezza non serve assolutamente a niente e per di più non c'è nessuna prova che nemmeno le mascherine chirurgiche proteggano dall'influenza figuriamoci dal coronavirus per non parlare poi delle altre no quelle che vengono distribuite dalle regioni che sono ridicole che ne so quelle in cotone quelle in stoffa quelle in tessuto non tessuto e sì perché conte nel decreto ha scritto che la mascherina è obbligatoria ma non c'è scritto cosa si intende per mascherina non hanno messo nessuna specifica a quali requisiti dovrebbero corrispondere queste mascherine hanno scritto mascherina e basta e poi per aumentare la confusione hanno ben pensato di fare una bella legge per cui hanno sdoganato le mascherine qualsiasi mascherina va bene diventa tutto mascherina anche quelle mascherine che non rispettano nessuno standard di sicurezza europeo queste non sono mascherine quelle che distribuiscono che le persone indossano non sono mascherine e c'è scritto anche sopra sopra c'è scritto non è un dispositivo di protezione individuale e allora se non è un dispositivo di protezione individuale per quale motivo dovremmo indossarle e se non ci proteggono per quale motivo il governo vuole obbligarci con la forza ad indossarle per forza perché le mascherine sono un business soprattutto quelle farlocche che non offrono nessuna protezione c'è anche scritto sopra non sono dispositivi di protezione individuale e con questa scrittina praticamente sono esenti da proteggere non possono tranquillamente non assicurare nessuna protezione e per di più in questo modo esonerano anche da ogni responsabilità sia chi le produce il produttore che il distributore insomma è solo una questione di soldi la protezione non c'entra nulla le mascherine farlocche che vuole imporre a tutti i costi il governo sono solo un business in cui tanti politici ed amici dei politici si sono immediatamente buttati piatto ricco micifico alimentando così anche un mercato fatto di tangenti truffe e ovviamente mascherine contraffatte esposto di codacons sulla vendita di mascherine contraffatte in tutta italia da indagini avviate dalla guardia di finanza è emerso che più di 150 mila mascherine di tipo ffp2 e prive dei requisiti di sicurezza provenienti da un fornitore cinese sarebbero stati distribuiti su tutto il territorio nazionale senza il marchio ce o addirittura con etichetta falsa il valore della merce sequestrata ammonta a 800 mila euro etruria news regione lazio false e inutilizzabili anche le mascherine pagate 22 milioni di euro da tulumello caccia alla presunta maxi tangente la truffa supera i 40 milioni di euro già usciti dalle casse della regione lazio l'anac ha aperto un fascicolo grazie alla nostra segnalazione e questi guai della regione lazio si aggiungono agli 11 milioni di euro che zingaretti ha pagato ad una ditta che si occupava di illuminazione quindi ha commissionato le mascherine a una ditta di illuminazione gli ha dato 11 milioni e le mascherine non sono mai arrivate insomma cari amici le mascherine sono un business un modo come un altro per rubare un sacco di soldi e sì perché milioni di euro da rubare no da far sparire da regalare agli amici dei politici si trovano sempre ma qualche misero centinaio di migliaio di euro da investire nell'ossigeno zonoterapia e salvando così moltissime vite quelli non si troveranno mai e no perché bisogna usare dei farmaci costosissimi e dannosi altrimenti poi come si fa ad incassare i soldini le tangenti ad incassare i favori dalle case farmaceutiche le mascherine sono un business rappresentano soltanto una montagna di soldi facili facili da rubare e quindi per questo motivo devono essere imposti alla popolazione con la massima violenza vorrei chiedere un impegno massiccio delle forze dell'ordine e sollecito il ministero dell'interno a dare direttive rigorose in questo senso per il controllo dell'uso delle mascherine e gli assembramenti notturni chiedo anche che ogni giorno venga pubblicata una lista delle ammende fatte a chi non indossa la mascherina con 10 ammende al giorno daremo una mano a contenere il fenomeno ovviamente alle minacce di De Luca si aggiunge la minaccia di Zaia questo perché la linea del terrore non deve essere interrotta per nessun motivo basta poco qualche centimetro in meno una spista una pacca sulla spalla un saluto più caloroso una risata innocente una stretta di mano una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi il covid 19 si combatte in ospedale ma soprattutto fuori cari amici la mascherina all'aperto non serve a niente e non è neanche provato che una mascherina chirurgica offra protezione dal virus l'unica cosa certa a cui sono servite e a cui continuano a servire le mascherine è quella di truffare di rubare un sacco di soldi dalle tasche dei cittadini comunque se qualcuno avesse ancora dei dubbi dopo i saluti leggerò quello che è il parere di un medico sull'utilizzo delle mascherine un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio non è dimostrato però che l'uso della mascherina chirurgica da parte delle persone sane nelle loro normali attività quotidiane riduca la trasmissione del virus dell'influenza certamente una funzione protettiva comunque ce l'ha la mascherina afferma il professor Tarzitani serve per difendere gli altri dal nostro possibile contagio non viceversa e se tutti capissero questo e usassero nella giusta maniera le mascherine chirurgiche o similari avremmo fatto un grande passo in avanti nella tutela della salute pubblica attenzione però chiarisce il professore non c'è alcun motivo logico per indossare la mascherina all'aria aperta quando siamo da soli o a distanza di sicurezza da altre persone la trasmissione del virus non è così facile e le particelle che dovrebbero trasportarlo cadono velocemente a terra e perdono altrettanto rapidamente la loro capacità di offendere è assurdo anche vedere persone da sole in auto con la mascherina indosso quell'uso improprio ne anticipa l'inidoneità favorendo l'umidificazione del tessuto e la conseguente inefficacia del filtro usarle quando non serve ottenerle impropriamente per molte ore potrebbe comunque creare dei danni non parliamo di rischi epocali ma è un fatto acclarato anche da uno studio del dottor antonio ivan lazzarino epidemiologo degli universi di college di londra che esistano dei rischi collaterali ad esempio le mascherine facciali rendono più difficile la respirazione favorendo la dispnea in soggetti giovani e sani è un problema che non si pone neanche a livello di percezione a meno che non faccia uno sport con la mascherina indossata ma in pazienti portatori di bpco broncopneumopatia cronica ostruttiva la situazione potrebbe aggravarsi l'aria poi viene espulsa verso l'alto i portatori di occhiali lo sanno bene in quanto se li ritrovano costantemente appannati ad ogni respiro generando una spiacevole sensazione e uno stimolo a toccare gli occhi cosa assolutamente da evitare inoltre a ogni ciclo di respirazione viene inalata una frazione di anidride carbonica già respirata con correlato aumento di frequenza e volume della respirazione e conseguente maggior carico virale nei polmoni eventualmente infetti anche in questo caso pur in assenza di virus l'apporto indesiderato di anidride carbonica è pressoché impercettibile in un giovane sano ma può essere invece percepito in un anziano o in un malato infine le mascherine chirurgiche indossate per lunghi periodi determinano un habitat umido in cui il SARS-CoV-2 può rimanere attivo a causa del vapore acqueo fornito costantemente dalla respirazione catturato dal tessuto stesso della mascherina insomma la mascherina ha un senso se la distanza interpersonale è inferiore al metro altrimenti è inutile e in alcuni specifici casi dannosa sia per le cose che ho detto sia per il falso senso di sicurezza che può ingenerare facendo abbassare la guardia sul vero metodo utile a prevenire il contagio il distanziamento tra persone